Ritorno in un crocevia, in un angolo, anzi tra più angoli pericolosissimi quanto a sicurezza stradale, Corso Italia con via Polesine e via Picardi più in fondo. Guardate una serie di angoli, di incroci pericolosissimi perché non esiste la segnaletica orizzontale, non esiste, l'ho segnalato più volte, nulla, qui si gioca all'autoscontro e questo ve l'ho detto. Ma la cosa assurda, incredibile, sapete qual è? Che nei giorni scorsi sono stati realizzati dei parcheggi per disabili. Benvenga, una cosa estremamente positiva. Quindi sono venuti a mettere le strisce gialle. La ditta è venuta e ha messo le strisce gialle per il parcheggio dei disabili. Cosa buona e giusta, bisogna essere vicini ai diversamente abili, ci mancherebbe altro. Però io dico, ecco proprio vi fa capire come l'amministrazione comunale non funziona. Visto che avete chiamato e avete mandato la ditta a fare le strisce gialle per i diversamente abili, perché con la stessa venuta non siete venuti a far mettere la segnaletica orizzontale? Perché qui vedete abbiamo delle strisce pedonali che non esistono più, completamente scolorite. E poi la cosa ancora più grave è che qui, in questo tratto, il ritorno a bomba, guardate, qui c'è l'autoscontro. Ma scusate, era così difficile far sistemare qui le strisce bianche? Le strisce, pardon, la segnaletica orizzontale, le strisce bianche per capirci. Guardate, nulla. Allora, ecco cosa significa economizzare, ottimizzare le risorse. Chiami la ditta, fa una cosa e fa l'altra, fa le strisce gialle e fa la segnaletica, le strisce bianche per capirci. Nulla. Questa è un'amministrazione che non ha logica, che non ha ordine, che non ha criterio, che vive così per tamponare le emergenze, perché è stato chiesto di fare il posto per i disabili e si è fatto il posto per i disabili. Ma il cervello non va oltre l'elasticità mentale, non va oltre la capacità di fare sintesi, di accorciare i tempi, di essere pragmatici, produttivi, di dare risultati. Non esiste, guardate, non esiste. Tanto ci voleva a far mettere le strisce bianche, le strisce bianche, la segnaletica, mi correggo, posso essere a tecnico se no, la segnaletica orizzontale? È mai possibile? È mai possibile che la segnaletica orizzontale qui non esista? Lo ripeto, avete fatto una cosa, fate l'altra. Significava soltanto portare un barattolo di vernice bianca, tutto qui. E ovviamente fare la segnaletica orizzontale. Nulla. Comandante dei vigili urbani, assessore Ciraci, tanto ci voleva. Ma scusate, ma queste cose non riuscite a comprenderle, a capirle? Io mi sforzo di capire per quale motivo non sia stata fatta questa cosa che vi sto chiedendo. Non io, che stanno chiedendo i cittadini perché non ne possono più, perché qui si verificano incidenti. E allora, ripetendo e concludendo, perché è ripetita a Juvent, strisce gialle lì, viene la ditta e hanno fatto bene a fare il posto per i disabili, i disabili vanno aiutati sempre e comunque, invece qui segnaletica orizzontale assente. Questa è l'amministrazione Melucci. Il mondo al contrario, direbbe qualcuno in un tanto discusso, libro, pubblicazione. Qui abbiamo la città al contrario. Il mondo al contrario, direbbe qualcuno in un tanto discusso, libro, pubblicazione.